benvenuti sono miti mart siamo qui a world frame ancora una volta ebbene sì oggi farò un video un po' differente dal certo sono qui con zephy che è un wolf che non uso quasi mai perché oggi faremo cercheremo di superare il grado maestria perché sono grado maestria 7 dobbiamo andare verso dobbiamo superarlo per andare al grado maestria 8 il problema è che è praticamente un tentativo si può fare un tentativo al giorno c'è 24 ore e questo è un diciamo un un test di abilità che per me è abbastanza difficile l'ho già fatto varie volte e ho visto anche che ci sono vari video in inglese di questa ho visto che ci sono vari video in inglese per il superamento di questa di questo grado maestria perché non è affatto scontato vedete noi dobbiamo sparare qua ora fin qui ok poi con lui dovrei essere anche avvantaggiato perché come vedete fa la discesa molto lenta e qui ok io è praticamente una settimana che sono qui io praticamente cascavo sempre qui perché qui facevo il doppio salto solamente che lo toccavo appena e toccandolo appena non riesce a salire quindi noi dobbiamo fare e mi ci sono fregato non riuscivo a capire cosa dovevo fare quindi dobbiamo tentare di fare questo vediamo se mi riesce ok ce l'ho fatta non facevo questo praticamente cascavo ogni volta però non è finita qui perché perché mo quello la è parecchio lontano con lui forse ci si arriva abbastanza tranquillamente non lo so vedremo ok e quello laggiù porca lo è veramente lontano ma con il doppio salto non ci si arriva assolutamente bisogna fare questo qui però va affatto alto a questo punto parecchio alto purtroppo con la tastiera non uso mai questo salto perché con la tastiera non mi torna molto bene ci sono non cascare vaffanculo è vero ah no ce l'ho fatta non ce l'ho cascato non ci credo va bene ragazzi dopo una settimana ce l'ho fatta va bene come al solito sempre facendo dei casino non riesco mai a fare una cosa fatta bene fatta e finita comunque ragazzi è andata così questo è un video corto finisce qui ragazzi un piccolo video solamente per farvi vedere ora magari non cascate non fate come me ragazzi non riesco a fare una cosa fatta bene vedete ragazzi perché io non faccio mai tutorial perché non sono assolutamente in grado perché nel mezzo a parte non mi riesce mai essere serio e poi nel mezzo succede sempre un qualche casino quindi ragazzi lasciamo perdere prendiamo le cose come vengono e pazienza va bene ragazzi comunque direi di concludere qua questo era solo un video tra virgolette quasi tutorial anche se poi non è su come superare il grado maestria 7 dato che io sono zuccone ci ho messo tanto ho detto magari c'è anche qualcun altro che ha avuto dei problemi così con questo video sa come non deve fare e ci vediamo alla prossima poi sempre iscrivetevi al canale commentate e lasciate like che sapete mi fa piacere alla prossima ciao 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 ciao